Le orate superiore che si fanno a suora tutte le ore, il nome del padre è sempre trombare, mai falire a costo di morire, fratelli. Perché le donne le esecome le vigne, perché le sia belle bisogna pomparle spesso. Inoltre, fratelli, ricordatevi che quella cosina è la zemeio della medicina, fa bene di sera e anche di mattina. Trombate, fratelli, trombate. E per le signore la benedizione della madre superiore a chi haga sempre un fratto sotto e uno su. E nel nome della Bernarda sempre donarla, mai rifiutarla a costo di consumarla, sorelle. Perché la gnocca, se come la precedenza, ogni tanto bisogna darla. Ma nel dubbio, onde evitare strisciamenti dei parafanghi o brutti incidenti, meglio darla sempre. Inoltre, sorelle, ricordatevi che c'è l'amelebo intero, non taglia a fetele, perché quella cosina non è una musina. Donatela, sorelle, donatela. L'amante del diavolo si chiamava donata a tutti. Andate e moltiplicatevi, ma se capisci ha fatto danni a se stare. Andate e moltiplicatevi, ma se capisci ha fatto danni a se stare.